La chiamano Mister Ciotola, in ogni caso ha portato fortuna, sua presenza in panchina, perché una vittoria dopo una sconfitta interna, anche contro un'ottima formazione a cui Elezai ha detto no in tutti i modi possibili. Sì, è andata bene oggi, in merito sicuramente ai miei compagni di squadra che ci hanno messo proprio l'anima, hanno lottato su tutti i palloni e veramente hanno dato tutto, magari un po' il secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina, però ci stava perché comunque abbiamo dato tutto durante la partita e ci stava un po' di sofferenza nei minuti finali, perché poi loro dovevano cercare di pareggiarla, però secondo me abbiamo fatto una partita veramente bella e veramente meritata secondo me. Sì, è stata una settimana complicata, però veramente ci hanno messo tutto, dai più, i giocatori più esperti, Adaleno, Scipioni, Tomaselli, magari mi dimentico qualcuno, i giovani ci hanno seguito con grande entusiasmo, con voglia, è veramente un gruppo bellissimo, un gruppo di ragazzi che veramente hanno voglia di fare bene. È stata una vittoria, secondo me, a parte i discorsi che stanno a fare, però di cuore siamo molto contenti che abbiamo fatto questa vittoria. Chi può essere il nuovo tecnico? No, non lo sappiamo, noi comunque siamo una buona squadra, possiamo fare un bellissimo campionato, fino alla fine ce la possiamo giocare e quando siamo al completo, secondo me, possiamo giocarcela, diciamo, fino alla fine per vincerla. Mister, io in telecronaca ho detto che fondamentalmente la Torres ha fatto il suo dovere. Forse l'unica cosa è che ha perso un po' di concentrazione dopo il rigore, ma avete trovato sulla vostra strada un portiere straordinario e quindi siete stati puniti in un risultato che vi va non stretto, ma purtroppo vi condanna. Sì, il calcio è questo, insomma, oggi gli episodi sono stati sfavorevoli, noi abbiamo fatto una grandissima gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché, insomma, hanno fatto una partita veramente importante sotto tutti i punti di vista, abbiamo creato tanto contro una squadra che comunque ha delle grandi individualità, probabilmente hanno dei problemi a livello fisico, sono scesi. Noi anche in dieci, dopo anche l'episodio dell'espulsione, comunque abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo creato tanto. C'è rammarico per il risultato, ma ripeto, la prestazione è importante e credo che continuando su questa strada ci toglieremo tante soddisfazioni. Forse solo i primi dieci minuti, ma dovevate prendere misura al Lanciano. Sono d'accordo, avevo preparato i ragazzi dicendo che il Lanciano sarebbe partito forte perché comunque hanno vissuto una settimana particolare e quindi volevano dimostrare di essere ragazzi da Lanciano. Abbiamo tenuto botta, dopodiché dopo dieci minuti credo che c'è stata una sola squadra in campo, mi permetto di dire con tutto il rispetto per il Lanciano. Meritavamo sicuramente qualcosina in più, è un eufemismo, ma insomma, ripeto, la strada è ancora lunga e la prestazione è incoraggiante, quindi da stasera testa al Villa. Grazie, bocca al lupo. Buon lavoro.